Si è tornata a parlare a Casellamare del Golfo della realizzazione di un forno crematorio, una proposta di una ditta di qualche anno fa, adesso ritorna alla ribalta. Due associazioni si sono dichiarate contrarie, Assolo Catorro e l'Associazione degli Albergatori. Perché questa presa di posizione? Avete anche lanciato una petizione sulla piattaforma online. Noi manifestiamo la nostra perplessità perché riteniamo che quest'opera non sia idonea per l'indirizzo turistico che Casellamare ha già intrapreso e tenta di intraprendere nel tempo. Ricordo comunque che non sono soltanto le nostre associazioni ad andare contro, ma si sono unite al nostro grido l'Associazione Carnus, l'Associazione Commercianti della Spiaggia, della Marina, la Proloco, l'Associazione Vivere il Centro Storico. Quindi siamo già un gruppo molto consistente di associazioni che hanno gridato un forte no alla realizzazione di questo impianto. Ma questo no, lo diciamo qua e lo ribadiremo anche in seguito, non è un no alla realizzazione dell'impianto all'interno dell'area cimiteriale. È un no alla realizzazione dell'impianto all'interno del tutto il territorio castellamarese. Giacquinto, il primo cittadino proprio in un'intervista ha dichiarato che non è favorevole a questa iniziativa, però c'è stata anche una conferenza stampa in cui cosa è stato detto? La posizione per quanto ci riguarda ancora non è stata del tutto chiarita, perché noi abbiamo iniziato questo nostro percorso insieme ad altre associazioni e tanti altri liberi cittadini che hanno espresso la loro volontà di partecipare a questa protesta, di esprimere il loro pensiero in merito alla realizzazione di un'opera che, ripeto, come ha detto benissimo Giuliano, è assolutamente inopportuna. La loro posizione in realtà da un punto di vista amministrativo è poco chiara perché da un lato si scarica la paternità del progetto all'amministrazione precedente e dall'altro lato si scarica l'eventuale responsabilità di approvazione del progetto sul Consiglio Comunale. Noi non siamo tecnici, quindi non entriamo nel merito della scelta politica dell'amministrazione. Riteniamo soltanto che se c'è una volontà amministrativa un progetto va avanti. Se non c'è la volontà amministrativa questo progetto non dovrebbe andare avanti. Quindi siamo convintissimi che l'amministrazione ripensa o ripenserà all'eventualità, all'opportunità di realizzare questo progetto. Noi siamo al loro fianco per quanto riguarda la parte negativa di rifiuto e di bocciatura del progetto. La vostra posizione nasce più da un impatto visivo di quest'opera o anche da studi che parlano di inquinamento prodotto dai fumi crematori? Certo, anche da questo. Però più che altro è un danno anche di immagine, secondo me, che Castellammare può subire con la realizzazione di questo forno. Ricordo a tutti che questo non è un forno che servirà soltanto o servirebbe soltanto alla popolazione di Castellammare, al risente di Castellammare. Ma è un forno che, essendo a gestione privata, funzionerebbe praticamente raccogliendo il bacino di tutto il sud Italia. Sappiamo benissimo che un malfunzionamento di un forno di questo tipo può spigionare nell'atmosfera di ossine e qualsiasi tipo di fumo tossico. E questo non ce lo possiamo permettere, soprattutto, ripeto, perché Castellammare non ha bisogno di questo tipo di impianto. Abbiamo altre prerogative che l'amministrazione conosce benissimo, quello di creare servizi, creare posteggi, creare viabilità. Sicuramente il forno non è una prerogativa essenziale in questo momento storico. Gianquinto, un'ultima battuta. Parlando di cremazione, mi viene l'idea di pensare a vicende etiche e anche alle posizioni della sinistra. Ecco, le associazioni di sinistra, Castellammare ce n'è qualcuna abbastanza attiva. Che posizione hanno su questo forno? Vi siete confrontati? Vi siete sentiti? Ma noi, da un primo confronto a livello territoriale con le associazioni presenti su Castellammare, abbiamo da sempre rivendicato la libertà di scelta. L'etica riguarda una sfera soggettiva, non quella associativa. Quindi per quanto riguarda le associazioni di categoria come la nostra, ma anche le associazioni turistiche, la Prologo, la Solocatur e tante altre, abbiamo da sempre rivendicato la libertà di scelta. So che l'attuale Partito Democratico, che è presente a Castellammare, ma anche altre associazioni di sinistra, ovviamente considerano la cremazione come un istituto ormai consolidato.